Quando tornò in sé, si trovava nel letto di Lord Riquis. Le reliquie di Lord, abiti e capelli, erano state portate via. Sul comodino ardeva una candela. Attraverso le imposte socchiuse udiva in lontananza il giubolo della città in festa. Antoine Riquis era seduto su uno sgabello accanto al letto e vegliava. Teneva una mano di Grenouille tra le proprie e la carezzava. Ancora prima di aprire gli occhi, Grenouille saggiò l'atmosfera. In lui tutto era tranquillo, più nulla ribolliva e premeva. Nella sua anima regnava la consueta notte fredda che gli serviva per rendere la sua coscienza lucida e indifferente e per dirigerla verso l'esterno. Là annusò il suo profumo. Era cambiato. Le punte si erano lievemente smossate, cosicché soltanto la nota fondamentale dell'odore di Lord risultava evidente. Una fiamma soave, intensa, sfavillante. Si sentì sicuro. Sapeva che sarebbe rimasto inattaccabile ancora per ore e aprì gli occhi. Lo sguardo di Riquis era fisso su di lui. C'era una benevolenza infinita in quello sguardo. C'era tenerezza, commozione, la profondità vuota e sciocca di chi ama. Sorrise, strinse più forte la mano di Grenoy e disse Ora andrà tutto bene. La magistratura ha annullato la sentenza a tuo riguardo. Tutti i testimoni hanno ritrattato la loro deposizione. Sei libero, puoi fare ciò che vuoi, ma io voglio che tu resti con me. Ho perso una figlia, voglio avere in te un figlio. Tu, le famiglie, sei bello come lei. I tuoi capelli, la tua bocca, le tue mani. Ho stretto la tua mano per tutto questo tempo. La tua mano è come quella di Lord. E quando ti guardo negli occhi è come se mi guardassi lei. Tu sei il suo fratello e voglio che tu diventi mio figlio, la mia gioia, il mio orgoglio, il mio erede. Vivono ancora i tuoi genitori? Grenoy scosse il capo e il viso di Rikis divenne purpureo dalla felicità. Allora vuoi essere mio figlio? Balbettò e balzò in piedi dallo sgabello per sedersi sul bordo del letto, stringendo anche l'altra mano di Grenoy. Vuoi esserlo? Vuoi? Vuoi accettarmi come padre? No, non dire nulla, non parlare. Sei ancora troppo debole per parlare. Fa soltanto un cenno. Grenoy fece un cenno. Allora la felicità di Rikis erruppe da tutti i pori ed egli rosso e sudato in volto si chinò su Grenoy e lo baciò sulla bocca. Dormi ora, mio caro figliolo, disse rialzandosi. Io veglierò accanto a te finché non ti addormenterai. E dopo averlo contemplato a lungo con muta beatitudine aggiunse Tu mi rendi molto, molto felice. Grenoy piegò lievemente gli angoli della bocca come aveva imparato a fare osservando la gente che sorride. Poi chiuse gli occhi. Atteso un momento per rendere il suo respiro più regolare e più profondo, come quello di chi dorme. Sentiva lo sguardo amorevole di Rikis sul proprio viso. A un tratto sentì che Rikis si chinava ancora una volta su di lui per baciarlo e poi si tratteneva per timore di svegliarlo. Infine la candela fu spenta con un soffio e Rikis scivolò in punta di piedi fuori dalla stanza. Grenoy rimase a letto finché non udì più alcun rumore né in casa né in città. Quando si alzò era già all'alba. Si rivestì e si allontanò senza fare rumore per il vestibolo. Scese piano piano la scala e attraverso il salotto uscì sulla terrazza. Da lì c'era una vista fin oltre le mure della città, oltre la conca del territorio di Gras e quando era limpido anche fino al mare. In quel momento una nebbia rada, quasi una foschia, era sospesa sui campi e i profumi che arrivavano da quella parte d'erba, di ginestre e di rose erano come lavati, puri, elementari, semplici e confortanti. Risalendo il coeur dovette farsi strada ancora una volta tra le esalazioni umane prima di raggiungere l'aperta campagna. Tutta la piazza e i pendici circostanti sembravano un immenso accampamento militare devastato. Tutto attorno erano stese a terra migliaia di persone ubriache sfinite dagli eccessi della festa notturna. Molte nude, molte seminude e semi coperte da vestiti sotto i quali erano scivolati come sotto una coltre. C'era un puzzo di vino acido, di acquavite, di sudore, di orina, di escrementi di bambini e di carne alla brace. Qua e là fumavano ancora i resti dei fuochi sui quali avevano cucinato e attorno ai quali avevano bevuto e ballato. Di tanto in tanto, tra russare continuo e generale, si sentiva gorgogliare un barbettio o uno scoppio di risa. Forse qualcuno era ancora sveglio e si beveva il cervello con gli ultimi brandelli di coscienza, ma nessuno vide grinoi che passava al di sopra dei corpi sparpagliati, cauto e veloce a un tempo, come attraverso una palude. Non emanava più odore, il miracolo aveva avuto fine. Giunto alla fine del cœur, non imboccò la strada di Grenoble né quella di Cabris, ma si diresse a ovest attraverso i campi, senza guardare indietro neppure una volta. Quando si levò il sole, grande, giallo e infuocato, Grenoie era sparito da tempo. Gli abitanti di Grasse si svegliarono con un terribile mal di testa. Anche coloro che non avevano bevuto avevano la testa pesante come piombo e stavano malissimo di stomaco e di spirito. Sul cœur, in piena luce solare, onesti, i cittadini cercavano gli abiti che avevano gettato lontano da sé negli eccessi dell'orgia. Donne morigerate cercavano i loro mariti e figli, persone del tutto estranee fra loro, si staccavano ripilate da bracci più che intimi, conoscenti, vicini, coniugi d'un tratto, si trovavano l'uno di fronte all'altro in una nudità estremamente penosa, davanti agli occhi di tutti. Per molti, quell'esperienza fu così atroce, così totalmente inspiegabile e inconciliabile con le loro vere concezioni morali che nello stesso istante in cui ebbe luogo la cancellazione della memoria e di conseguenza anche in seguito non riuscirono davvero più a ricordarla. Altri che non dormivano, che non dominavano così sovranamente il loro apparato percettivo, tentavano di non guardare, di non ascoltare e di non pensare, cosa non del tutto semplice, perché la vergogna era stata troppo evidente e troppo generale. Chi aveva trovato i suoi averi e i suoi congiunti si allontanò il più rapidamente possibile senza dare nell'occhio. Verso mezzogiorno la piazza era vuota come se avessero spazzato via tutto. In città la gente uscì di casa, se uscì, solo verso sera, per sbrigare le commissioni più urgenti. Tutti si salutavano appena incontrandosi, parlavano soltanto di cose senza importanza, non una sola parola fu detta sugli avvenimenti del giorno e della notte precedenti. Tanto erano apparsi disinibiti e vivaci il giorno prima, altrettanto di timidi erano adesso. E tutti erano così, perché tutti erano colpevoli. Mai ci fu accordo tra i cittadini di Grascomo in quel momento, si viveva come nell'ovatta. Naturalmente alcuni, a causa del proprio lavoro, dovettero occuparsi più direttamente di ciò che era accaduto. La continuità della vita pubblica, l'irrimovibilità della giustizia e dell'ordine richiedevano rapide misure. Quel pomeriggio stesso si riunì il Consiglio Municipale. I membri, tra i quali anche il secondo console, si abbracciarono in silenzio, come se con quel gesto da congiurati fosse possibile ricostituire il Consiglio. Quindi, una anima, senza neppure far menzione degli avvenimenti e men che mai nel nome di Grenoy, decisero di far sgomberare senza indugio la tribuna e il patibolo del Coeur e di far riportare all'ordine precedente la piazza e i campi circostanti devastati. A tale scopo furono stanziate 160 lire. Contemporaneamente, la Corte si riunì nella Prevoté. Senza alcun dibattito, la magistratura convenne di considerare risolto il caso G, di chiudere la pratica e di archiviarla senza registrarla, aprendo un nuovo procedimento contro l'assassino ancora sconosciuto di 25 vergini nel distretto di Grasse. Al tenente di polizia fu impartito l'ordine di riprendere subito le indagini. L'assassino fu trovato già il giorno dopo, in base a indizi inequivocabili. Arrestarono Dominique Drouot, maître parfumeur in rue de la Louvre, nella cui capanna, dopo tutto, erano stati rinvenuti gli abiti e i capelli di tutte le vittime. I giudici non si lasciarono sviare dai suoi diniegi iniziali. Dopo 14 ore di tortura Drouot confessò tutto e implorò addirittura di essere giustiziato il più presto possibile, cosa che gli fu accordata già il giorno seguente. Lo impiccarono alle prime luci dell'alba senza scalpore, senza batibolo né tribune, unicamente alla presenza del boia, di alcuni membri della magistratura, di un medico e di un sacerdote. Quando subentrò la morte, dopo averla constatata e messa regolarmente a verbale, seppellirino subito il cadavere. Con ciò il caso fu risolto. Comunque, la città l'aveva già dimenticato e così totalmente che i viaggiatori che giunsero nei giorni seguenti e si informarono casualmente del famigerato assassino delle fanciulle di Grasse, non trovarono una sola persona ragionevole che fosse in grado di dar loro informazioni. Solo alcuni ospiti della charité, ben noti malati mentali, balbettarono ancora qualcosa a proposito di una grande festa nella Place du Coeur a causa della quale erano stati costretti a sgombrare le camere. E ben presto la vita si normalizzò del tutto. La gente lavorava con impegno e dormiva tranquilla e badava i propri affari e si comportava bene. L'acqua traboccava come sempre dalle varie sorgenti e fontane e trascinava il fango per i vicoli. La città si ergeva sempre logore e fiera sulle alture al di sopra della fertile conca. Il sole splendeva caldo. Presto giunse maggio ci fu la raccolta delle rose. Grenoilles camminava di notte come all'inizio del suo viaggio evitava le città, evitava le strade, si fermava a dormire sul far del giorno, si alzava la sera e proseguiva. Mangiava quello che trovava per via erbe, funghi, fiori, uccelli, morti, vermi. Attraversò la Provenza, passò dall'altra parte del Rodano su una barca rubata a sud di Orange, seguì il corso dell'Ardeche fino nel cuore della Sevenne e poi l'Allier verso il nord. Nell'Uvergne arrivò vicino al Plomme du Cantal, lo vidi a ovest grande e grigio-argento alla luce della luna e sentì l'odore del vento freddo che veniva di là, ma non provò il desiderio di andarci. Non aveva più voglia di vivere in una caverna, aveva già fatto questa esperienza e si era rivelata invisibile, proprio come l'altra esperienza, quella di vivere tra gli uomini. Si soffocava in entrambi i modi, semplicemente che non voleva più vivere, voleva andare a Parigi e morire, questo voleva. Di tanto in tanto metteva la mano in tasca e stringeva il flaccone di vetro che conteneva il suo profumo. La bottiglietta era ancora quasi piena. Per la sua comparsa a Grasse ne aveva usata soltanto una goccia, il resto sarebbe bastato per ammaliare il mondo intero. Se avesse voluto avrebbe potuto farsi festeggiare a Parigi, non da diecimila persone soltanto, ma da centomila o andare a passeggio a Versailles per farsi baciare i piedi dal re, scrivere al papo una lettera profumata e rivelarsi come il nuovo messia. A Notre Dame, davanti a re e imperatori, ungersi imperatore supremo, anzi, addirittura Dio in terra, ammesso che ci si potesse ancora ungere come Dio. Poteva fare tutte queste cose se solo l'avesse voluto, aveva il potere di farlo, l'aveva in mano, un potere più forte del potere del denaro o del potere del terrore o del potere della morte, il potere invincibile di suscitare l'amore degli uomini. Solo una cosa non riusciva a fare questo potere, non riusciva a fargli sentire il proprio odore e anche se il suo profumo di fronte al mondo lo faceva apparire come un Dio, se non riusciva a sentire il proprio odore e se quindi era condannato a non sapere mai chi egli fosse, se ne infischiava del mondo di se stesso e del suo profumo. La mano con cui stringeva il flaccone emanava un profumo molto delicato e quando la portava al naso e la fiutava diventava malincomico e per un attimo smetteva di camminare e si fermava ad annusare. nessuno sa com'è buono in realtà questo profumo pensava nessuno sa com'è fatto bene gli altri si limitano a subirne l'effetto anzi non sanno neppure che un profumo che agisce su di loro li affascina l'unico che l'abbia mai conosciuto nella sua reale bellezza sono io perché io stesso l'ho creato e sono anche l'unico che non può esserne affascinato sono l'unico per il quale questo profumo non ha senso e un'altra volta era già arrivato in Borgogna si chiese quando era vicino al muro sotto il giardino in cui giocava la fanciulla dei capelli rossi e il vento mi portava il suo profumo o piuttosto la promessa del suo profumo poiché in realtà il suo profumo sarebbe nato in seguito non esisteva ancora ciò che provavo allora era forse qualcosa di simile a quello che ha provato la folla sul coeur quando l'ho inondata col mio profumo ma poi respinse questo pensiero no era qualcosa di diverso poiché io sapevo di desiderare il profumo non la fanciulla invece la folla pensava di desiderare me e ciò che desiderava in realtà non lo saprò mai poi smise di pensare perché pensare non era il suo forte e inoltre era già arrivato nella zona di Orléans attraversò la loira nei pressi di Sailly il giorno dopo gli giunse alle narici l'odore di Parigi il 25 giugno 1767 entrò in città da Rue Saint-Jacques alle 6 di mattina era un giorno molto caldo il più caldo di tutto quell'anno migliaia di odori e puzze sgorgavano come da migliaia di ascessi scoppiati non c'era un alito di vento la verdura sui banchi del mercato appassì prima di mezzogiorno carne e pesci marcivano nei vicoli stagnava un'aria pestifera sembrava che anche il fiume non scorresse più ma si limitasse a stare immobile e puzzare come il giorno in cui era nato Greneuil attraversò il Ponte Neuf passò sulla riva destra e proseguì fino alle Halle e al Cimiterre des Innocents nelle arcate degli Ossari lungo Rue Offert si mise a sedere l'aria l'aria del cimitero si stendeva davanti a lui come un campo di battaglia distrutto dalle cannonate pieno di buche di solchi attraversato da fosse disseminato di osse di teschi senza un albero un cespuglio o un filo d'erba una discarica della morte non si vedeva anima viva il puzzo dei cadaveri era così forte che persino i becchini erano spariti ritornarono soltanto al tramonto a scavare fosse alla luce delle fiaccole fino a notte inoltrata per i morti del giorno seguente soltanto dopo mezzanotte i becchini erano già andati via il luogo si popolò di tutte le canaglie possibili ladri assassini accoltellatori prostitute disertori giovani desperados accesono un fuocherello all'aperto per cucinare per disperdere il puzzo quando Grenoie si mosse dalle arcate si mescolò al gruppo in un primo tempo non lo notarono affatto poteva avvicinarsi al fuoco inosservato come se fosse uno di loro questo fatto in seguito confermò la loro idea che probabilmente si fosse trattato di uno spirito o di un angelo o comunque di una creatura soprannaturale infatti di solito erano estremamente sensibili alla vicinanza di uno sconosciuto ma quel piccolo uomo con la sua giacca blu si era semplicemente trovato lì come se fosse spuntato dal terreno con una boccetta in mano che aveva stappato questa fu la prima cosa che tutti riuscirono a ricordare che un tale era lì e stappava una boccetta e poi si era spruzzato tutto con il contenuto di quella boccetta e tutto un tratto era apparso circonfuso di bellezza come di una fiamma raggiante per un attimo indietreggiarono con rispetto e profondo stupore ma nello stesso istante sentirono che il loro indietreggiare equivaleva già a un prender l'avvio che il loro rispetto si trasformava in desiderio il loro stupore in entusiasmo si sentirono attratti da quel piccolo uomo angelico un turbine di passione emanava ad lui un flusso trascinante al quale nessuno riusciva opporsi tanto più che nessuno avrebbe voluto opporvisi poiché era quello stesso a smuovere la volontà e a sospingerla verso quell'uomo avevano formato un cerchio attorno a lui 20-30 persone e questo cerchio si stringeva sempre più presto il cerchio non riuscì più a contenerle tutte ed esse cominciarono a premere a spingere a incalzare ognuno voleva essere più vicino al centro e poi ad un tratto crollò in loro l'ultima inibizione il cerchio si sfasciò si precipitarono su quell'angelo si avventarono su di lui lo gettarono a terra ognuno voleva toccarlo ognuno voleva una parte di lui una piccola piuma un'ala una scintilla della sua fiamma meravigliosa gli strapparono dal corpo i vestiti i capelli la pelle lo fecero a brandelli affondarono unghie e denti nella sua carne gli si buttarono addosso come iene ma il corpo di un uomo è tenace e non si lascia squartare così facilmente persino i cavalli per i cavalli costituisce un'enorme fatica e così presto lampeggiarono i pugnali affondarono nella carne la squarciarono e asce e lame robuste si abbatterono similando su quelle giunture gli schiantarono le ossa in brevissimo tempo l'angelo fu smembrato in trenta parti e ogni membro della masnada ne afferrò avidamente un pezzo si tirò indietro in preda una brama voluttuosa e lo divorò dopo mezz'ora anche la più piccola fibra di Jean-Baptiste Greneux era sparita dalla terra quando i cannibali alla fine del pasto si ritrovarono insieme accanto al fuoco nessuno disse una parola di tanto in tanto qualcuno ruttava leggermente sputtava un ossicino faceva schioccare pian piano la lingua spingeva col piede un residuo della giacca blu tra le fiamme tutti provavano un lieve imbarazzo e non osavano guardarsi ognuno di loro uomo o donna aveva già commesso una volta un delitto o qualche altro crimine abbietto ma divorare un uomo intero mai e poi mai avrebbero pensato di poter compiere un gesto tanto orribile e tuttavia si meravigliavano di come fosse stato facile per loro e di non avvertire neppure un'ombra di rimorso pur con tutto l'imbarazzo al contrario nonostante lo stomaco fosse pesante il cuore era straordinariamente leggero nelle loro anime tenebrose si agitava ad un tratto un'ombra di gaiezza e sui loro volti alleggiava un tenero timido barlume di felicità per questo forse avevano timore di alzare lo sguardo e di guardarsi negli occhi quando poi trovarono il coraggio di farlo dapprima con circospezioni e in seguito senza più riserve dovettero sorridere erano straordinariamente fieri per la prima volta avevano compiuto un gesto d'amore per la prima